Sei? Benissimo. Allora, barzelletta. Ci stanno tre casalinghe che si riuniscono a prendere il tè e cominciano a parlare tra di loro e si lamentano tutti dei mariti che non fanno niente. Allora incomincia la prima, dice guarda, mio marito non fa niente a casa, però io mi sono organizzata. Praticamente io di colpo ho smesso di sparecchiare e di cucinare. E dopo che è successo? Il primo giorno e non ci ho visto niente. Il secondo giorno ha incominciato a parecchiare la tavola, ha incominciato a preparare qualcosa in cucina. Tutte le altre due, ah dai, che è proprio, che è proprio. E la seconda, ah beh, non sapete, io di colpa ho smesso di cucinare e di lavare i panni. E che è successo? Il primo giorno non ci ho visto niente. Il secondo giorno ha incominciato a cucinare, a fare lavatrici, a sistemare il bucato. Ah, brava, brava. E la terza, ah beh, allora non sapete me. Quelle chiave che hai fatto? Allora, io ho smesso di cucinare, lavare, spazzare, fare tutti i lavori in casa, non ho fatto più una mazza. E che è successo? Il primo giorno non ci ho visto niente. Il secondo giorno non ci ho visto niente. Il quarto giorno non ci ho visto niente. Il quarto giorno non ci ho visto niente. Dopo una settimana, da quest'occhio qui, si sta andando, si sta andando. Ah, aspetta, aspetta, blocca e ria la cosa, perché così le metto separate.